Quattro settimane di formazione e attività sul campo che hanno permesso a circa 15 studenti delle classi quinte dell'Istituto Lotti Umberto I di Andrea di confrontarsi sui temi dell'europrogettazione e stilare un progetto europeo sulla base dei programmi di finanziamento comunitario. È una delle attività alle quali gli studenti del quinto anno dell'otti, prossimi alla maturità e dunque chiamati a decidere sul proprio futuro lavorativo, hanno svolto a Bruxelles nell'ambito di un progetto POR finanziato dall'Unione Europea dal titolo Vivere l'europrogettazione. Lo stage aziendale è stato svolto presso la Camera di Commercio Belgo Italiana di Bruxelles con la supervisione di esperti della Camera di Commercio Belgo Italiana e di qualificati europrogettisti. Un mondo che loro ignoravano completamente e ahimè ignoriamo anche noi perché spesso non si conoscono le mille opportunità che la comunità europea, sia come finanziamenti che come progettualità, dà non solo agli imprenditori ma anche agli studenti. Un esempio di buona scuola in cui le competenze prevalgono sulle conoscenze acquisite dai ragazzi ai quali è stato permesso di lavorare nell'ufficio Fiere ed Eventi della Camera di Commercio e organizzare un vero e proprio evento made in Italy all'estero. È stato senza dubbio un progetto molto interessante che ci ha aperto prospettive possibili per uno sbocco lavorativo in seguito al diploma e in seguito alla laurea eventuale per i ragazzi che continueranno il percorso di studi. Nell'ambito delle quattro settimane a Bruxelles, gli studenti hanno avuto la possibilità di trascorrere una giornata nella sede dell'ente Don Tonino Bello per una giornata di formazione. Gli abbiamo invitati presso la nostra struttura proprio per mettere le mani in pasta come si suol dire, cioè abbiamo spiegato loro realmente la progettualità come va portata, le varie opportunità che ogni ragazzo potrebbe beneficiare che in ogni modo l'Unione Europea mette a disposizione ma quasi pochi le vanno a guardare e abbiamo spiegato loro anche il quadro EQF che è il nuovo quadro normativo sulle certificazioni europee.